Hey man, siamo su RandomG Network e io sono il vostro Mr. Magro e questa è la prima puntata di Battlefield 3 e in compagnia con me c'è... Oh gosh! E? Elake! Oh my god! Allora, partiamo subito, prendiamo... non so che cosa prende, se... un... un cechino, uno sniper, un assalto, o... un ingegnere, o se no... Prendi un carciofo! Un carciofo, va, un carciofo! Scheriamoci con i fucile d'assalto, dai! Forza, non parte, perché non parte? No, schiera. Oh, perfetto. E ci va bene. Raccontaci un po' su sto gioco qui, comunque. Battlefield. Insè, quanto durano i partiti, come funziona una? Che cazzo, io ne so. Oh, e come funziona, praticamente la sto giocando in un... tipo... cattura la bandiera o qualcosa del genere, o un date match affazioni, non so come si chiama. Non l'ho visto come si chiama il coso, però devo conquistare degli obiettivi. Ok. Però ci sono alcune partite che durano, tipo... anche più di venti minuti. Ah. Sì, sì. Io ho battuto il silenzio per... play 3, però mi piace molto. Oh, prima uccisione. Anzi, assistenza, assistenza. Però c'è un altro, aspetta. Le assisto sono da me. E' un po' buon, un po' di scelta. Mi assento un nano secondo. No, 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 ah, ma mi ha ucciso. Mi hanno ucciso. Che nabbo esce subito, ma no. Amen. Esce subito, si abbo, non va. Intanto sono morto di già, eh. Sto giocato con il mouse e la tastiera. Alla io code. Perché il joystick non funziona. Non so come mai. Ah, piliccana il moto, piliccana il moto. No! No, mi lasciare qui pezzi di merda. Bravo, bravo, bravo. Oh, mi fa entrare, pezzi di me. Fammi entrare. BJ, no. Non so se l'ha detto, ma che partita è tutti contro tutti deathmatch. L'ho detto, conquista la bandiera, ad esempio. Ah, non mi vieni. Cioè, c'è un altro nome in Battlefield, però, boh. Cioè, ma molo, conquista la bandiera. Mi sta... Minchia, mi stanno... Dov'è? Tutti foto, no. No, però, quasi. Cioè, si vede, sono un abbo ai giochi di guerra. Basta vedere su Call of Duty insieme a loro. A parte ci sono stato poco, in alcuni video e basta. Poi hanno fatto tutto insieme loro, però... Anch'io sono un po' nabbo. Cioè, sono un abbo. Sono parecchio nabbo. Oh, quella che... Ma combattere più giù, non te lagga tanto. No, non mi lagga tanto. Però, porca troia, ma io sempre, perché... È più difficile fare... No, anche che sono un abbo, però è più difficile fare le uccisioni. Perché in Battlefield i nemici hanno la vita. Non è come... Ah... In Call of Duty se prendi due volte e li uccidi. In Battlefield proprio... Cioè, c'è un po' di vita e... Ti sei in culo, non capita. Ho capito che bella, 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 bella. E' bassissimo. Eh, infatti, non so come mai mi lagga. Di solito c'ho tipo 239 e... Hai il destino, hai il destino. Cioè, a volte non mi fa nemmeno vedere l'arma su Battlefield. Quella che ho io in mano. No, l'ho. Intanto mi sta a lungo voi, vai. Vabbèro? Eh... Quale? Se vuoi, se vuoi dirlo. Dicelo! Non è nemmeno... Non è nemmeno sparatutto. Bastardo, l'elipottero, non ci ho preso. È uno strategico, che dico, dai. Sì, eh? Vado. Vodigo. Vodigo e vodetto. È quello che ho detto prima. No. Io lo so, forse. Eh, non lo so, secondo me. È un principe. Adora, dillo. Eh? È un principe. Eh, no. È un cazzotissimo soldato. No. È un... È un coltatore? Eh, no. È una funnara. Vodetto che no. È una funnara. Vodetto, il poliziotto. Aspetta che mi è partito l'audio dell'installazione. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Install... Eh, no, lo stavo per dire. Tutto è live. Lo stavo per dire. Allora, no. Oh gosh. Però se... Secondo me, comunque, è meglio batteri feed come... Grafica. Come... Cioè, più che altro come grafica. Poi per altre cose, però... Tipo i carri armati, dei ricotteri. Eh, boh, forse per me... Per me è meglio batteri feed di COD. Poi non lo so se... Però, però, certo, batteri feed c'è pure un ambiente sfruttabile. Eh, parecchio, capito? Rispetto a COD. Cioè... Eh, un giocatore... Cioè, da quello... Dai video che ho visto, insomma, batteri feed mi sembra molto più sfruttabile tutto il territorio che poi spacca qualunque cosa. Sì, sì. Ecco, allora te ci staresti bene a spaccare la roba. Da bravo archetto. Non mi fa vedere l'arma, madonna. Oh, che bug. Che palle. Cerchiamo di prendere una base, almeno. Almeno una base, fammi prendere. Oh, bello. Se vuole sapere quanto occupate sto gioco, è... 700 meno. Poco. Poco. Però è un gioco epico, di video che è epico. Che poi me lo fa installare anche a me, strunz. Sì, e magari ci facciamo un bel multilettro. L'elicottero, l'elicottero, porca troia. Ah, quindi un gioco... Ah! Dove cazzo era? Tanto mi arrivano messaggi. Che se mi indietti e che gioco è? Sono curioso. Ma te te lo scrivo, dai, a coso, a coso, a coso, a coso. Eh no, perché sennò poi lo spoilerò, lo spoilerò pure sul network, perché penso che questo pure lo lascio sul network. Ah sì? Non me lo faccio per il canale. Sì, i multiplayer, se no, la campagna probabilmente me la faccio nel canale. Ah, buono. Dove sta Lake? Allora sappiamo che c'è una campagna e un multiplayer in questo gioco. Multiplayer. Vediamo, vediamo, vediamo. Guarda là come si fa con la macchina. Oh my god. Oh my god. Echì. Uppì. Ma dove si fa? Che gioco sia. Oh yeah, oh oh. Ma è avveviato? Dov'è quel finocchio? Senti che impugnano. Oh, aia, aia, no, dai, stavo uscendo dalla macchina. Sì, io dico, al mondo, però che gioco è? È attraverso questo video che fai? Ti spacco l'ossicina, cao. Ma ditemi almeno, ditemi almeno che cosa è, c'è, che genere, te, tipo, boh. Te lo dico come l'ho detto a Lake, WC, I, I, I. WC? Se lo capisci non lo die. WC, I, I, I. Non ho capito. Non ho capito. Ci sto pensando. Non ci penso troppo, se no te scioccano. Quante, quante, quante che non ci sono fatto? Zero, ah, bene, no, sì, sì, se me è. Sono morto tipo cinque volte, cinque volte. Oh, 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 questo. Ma guardate da dove mi mira. No, no, sono troppo, oddio, queste cazzo di casino. Dai, ma come cazzo mi ha acceso, madonna, vaffanculo, vai. Questo lo carichi subito, Magro, eh, questo lo carichi subito. Non me lo voglio dire. Arrivistante. Lo carichi mentre registri. Online, già, dai, forza, poi. Vado a vedere se l'hai messo, eh. Ora, allora, piglio il cecchino, madonna. Voglio prendere il cecchino, voglio provare con il cecchino. Oh, vedi, oh, l'aereo, 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 piglia l'aereo, piglia l'aereo, piglia l'aereo, no, no. Boom. No, no, guardala che bordello. E l'ho ripreso tutto. Oh, 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 ci stanno a sparare, ci stanno a sparare, ci stanno a sparare. Via. Dov'è, dov'è questo finocchio, ma no. Oh. Eh, vedi, guarda dietro la televisione. A me le cose, a me le cose, quando spariscono, stanno dietro la televisione. Lol. Ha finito sto stronzetto? Non ancora. Quanto è che registro parecchio, sì? Vi dico solo una cosa, ci stanno anche gli orchi. Ci stanno anche, ovviamente, se no, è un gioco di ruolo? No. Ma mi dici che genere di gioco è? No. Dai, perché già l'ho detto. Eh, non me lo ricordo. Eh, se non trovi ricordi. Dai, se non ti chiedo. Allora, questa è una cosa intelligente. Vediamo quei cechinaggi dove si può arrivare, da nessuna parte, mamma mia. Chissà se ci stanno ancora i server. Ma non c'è un cazzo di nessuno laggiù? Eh, finocchi di merida, madonna. Appena mi sporco un pochino, mi culo la mamma, come mi non sta vedere. Ma qua la bambina. Non iniziamo. Matteo, iniziamo. Eh, ecco, solo una madre può essere non un'altra in questo netto. E ma ce lo dice lei, quale? Ce lo dice lei. Mamma cacca, io. Aiutami, aiutami, aiutami. Mamma cacca, cacca. Cabo, 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 cab, cabo, cab, cabo, cabo. E la pasta, caboca, cabo, 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 caboset, cabo, caboset, 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 caboset. No, ragazzi, dove te ve vedere, mi è appena... 89% sparito il coso. I locali, me è appena sparito il coso. Ah, ok. Cioè, io non sto facendo una kill, stavo soltanto cazzo e chia tôic, change giano su questo video. io non sto a fare una kill ehi task ci sta a te ehi task si forse il mio da qualche parte da qualche parte forse c'è il mio task perchè sono morto tipo 8 volte vediamo se fa oh mio dio parte si sta citando ma lei è scaricato da internet no è originale ce l'ho da quando è ucciso oh lol e io come faccio casomai a scaricarlo eh lo scarichi poi di qualche server fin tozzo ci starà ma si come tutti i giochi questi che scaricano i giochi eganente peccato non c'è un seditinori nel risoluzione ma chi è pokemon no cecchino nemico in zona ma scusa da quando un pokemon è per computer da quando esistono gli emulatori eh infatti oh ghiacciato eh ghiacciato ghiacciato è ghiacciato dai sto prendendo una base sto prendendo una base vediamo se ci si fa si si catturato una base 150 punti per mister magro anzi per mcmelo perchè io subato i film mi chiamo mcmelo oh catturato mamma mia che infognata sono in tato gas ah in multiplayer in due ho anche in tre si può giocare anche tramite amaci mi sa perchè ci sta anche alle partite lan quindi stannone a stessa rete se possono giocare le partite si la macchina si va bello se ospito io lo sapete se ospito io senza ma anche se ospito io ah si allora tu ma guarda un po' come lo vuoi c'è un favore eh ah io lo provo ah mentre i registri però vi così a bomba si 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 no giusto per vedere se funziona bene mamma mia ma sto fà hk ragazzi oh questo aspetta aspetta dov'è come si tira coltellata non so nemmeno dove sto frocio è da qui sto pezzo di merda dov'è africione vi dico solo una cosa c'è una mappa che si chiama borderlands però non è borderlands eccola in gioco boh ehm dai dai ci vuol che indizio dai eh oltre ai orchi ci stanno delle cose che stanno anche su minecraft i clipper no la crafting eh no ma chi è il nuovo gioco che ha fatto coso no non c'è verso no 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 è the kitchen gli enderman oh questo mio 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 dov'è 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 scrivetelo 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 nei commenti nei commenti nei video o su tss no nei commenti del video brutti ma dove cazzo io non sto a beccar nessuno ragazzi ah che video di merda mi sta venendo fuori porco lol siamo noi che portiamo spiega adesso non trovo nessuno non trovo nessuno se lo giuro a parte sono tipo a livello 2 perchè ho iniziato da poco quindi oh merda mi stanno mi stanno mirando monicecchino mi stanno mirando monicecchino non so se il nostro no non è nostro ora ma dove cazzo è ma che cazzo ma quanti siete nella partita siamo boh stiamo a 731 a 968 no quanti giordori eh non lo so oh no 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 ma siamo nella mia squadra siamo 15 nell'altra 15 in una mappa enorme quanto il mio bene va beh in 30 quanto cazzo saranno grosse che mappe di BattleFit in una mappa che quanto la mia fava è enorme vabbè dimostrimento cumhammer2 seconde pimom2sttop guarda là che paracadute oh yeyears siamo con paracadata paracadata paracano paracata paracata spara spara parola scrampata comunque abbiamo tutte le basi e la conquisterò io poi mi sto dicendo non è grazie a tesi e mi stanno anche in cura mi hanno inculato però non sono ultimo sono 10 e c'è chi sta facendo anche peggio di me perchè ho fatto 950 punti sai ecco 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 sono una biga mo faccio un mp5 anzi no un p40 si va bene domani un p90 con i chiodini oh oh c'è una c'è pagno ha scritto una cosa bellissima su sui mio video di amnesia ora non voglio fare pubblicità questo no facciamola facciamola premete sui mio canale sui video di amnesia la casa 2 pagno ha scritto una cosa bellissima ha scritto una cosa bellissima vedo male o c'è un non mi piace sul tuo video che cazzo è questo fottutissimo bastardo lol grande bagno probabilmente il cugino di tesc e il tesc e il cugino di tesc e intanto catturiamo un'altra base abbiamo catturato un'altra base sarà micchi che non lo trovo più poi raggio oh 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 che cos'era quel rumore? che cos'è questo? chi è? un evitare un evitare impressionante ma dove cazzo? ma io non vedo nessuno ragazzi non c'è pezzo c'è mi sa che è bloccato l'omino che tra l'altro è un soldato che è ecco perfetto muore sempre perché essendo nabbetto e ragazzi non c'è messo infierisci sul tuo essere nabbo mamma mia potrei chiamarla la rubrica del nabbo io qua c'era già lo chiamo la rubrica del nabbo sì dai abbiamo la rubrica di nabbo eccomi qui io sono il primo nabbetto su batte il fiume e sul random ragazzi sono io il nabbo magro no mister nabbo magro mister nabbo mister fan prima uccisione prima uccisione è esplosivi c4 sblocesehen è esplosivi c4 sblocati c'è non so nemmeno come sdraiali ai pa pensa che non vuoi dai credo che questo dai se pia che questo sono un fenomeno da baraccone ma sono adesso ma che non si prenderà la brigata delle annotazioni su tutta la pagina in questo esatto momento con tutti i canali per l'olio se come faccio ma ormai se vincolato non dopo c'è ma come faccio dopo la tentata la 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 posso e ce l'hai io c'ho da andare dalla testa la torta a forza torino a forza torino se non mi cura prima sto strozzo o altro uccisione barri alla difesa 25 punti emilino emilio per l rpk attenzione mirino per l'rpk ed è una cosa da sega proletta se eccomi ecco io non so quanto dura sto video c'è sta durando tipo un anno e mezzo ma va bene lo stesso ma non fa niente non fa niente caso non fa niente a me dispiace per te di te lunghi così come me si prenderà qualche non mi piace perchè sono proprio una scappella chi mette non mi piace chi mette non mi piace si accetta lo stesso giusto si può accettare lo stesso non mi piace se non piace se è facile ma no ma no al massimo nonissimo chiudiamo il canale per disperazione oi lol dove sto sparando mi hanno tirato tipo un razza addosso non sono morto lol lol c'è ragazzo a 22 anni a 22 anni ancora a gioco con l'inchiadini vabbè io a 18 giochi a giochi dove la gente viene spartana io gioco con l'inchiadini che c'è una cosa da me dici che cazzo di gioco è lol è esclusiva lol io dico lo so la faccia tua mister dai mandata a fare culo ai 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 mi sta manicolando manicolato per me io quasi così lo inizio già a a comprare a comprare oh no ah lo sa quanti punti sono lo sapete a quanti punti sono sono a 1926 punti con 2 uccisioni e 11 morti e sono tipo sesto e primo c'è 3.711 punti alla faccia di chi e alla faccia di chi mi vuole male alla faccia di chi mi vuole alla faccia di chi mi vuole alla faccia di chi mi vuole e alla faccia di chi mi vuole ahahah hai avete capito testi me cazzo ahahah ahahah tutta mi cascate sai perché vi pulsi e culate si che lo so questo mi culetto papà e non io lo do e il culo glielo do io lo ritrovo le cartine per farmi le sigarette ah pezzavo qualche altra cosa ma vabbè no 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 le come dice lei cle le sigarette le sigarette i cannelloni i cannelloni i cannelloni all'amatriciana ah che sia chiaro eh non provata di matriciana eh se dice amatriciana cazzo amatrice è un posto che sta qua vicino e la pasta all'amatriciana è originaria della mia provincia LOL allora si dice matriciana c'è io sto sparando e la matriciana originale è in biante oia hai capito? si è capito capito adesso apriamo anche un blog di cucina che si metterà a cucinare si prendo un gatto lo sbatto sul muro poverina e lo cucino no no h3 oh baciato accanto porca troia dove sono questi stuzzi azzolini oh porca troia eccolo la mio adesso arrivo e mi ha sparito mi ha sparito comunque magherò magherò sei un bastardo perchè? perchè io non sapevo che dovevamo registrare prima hai capito? vabbè arrivo faccio tu aia ma no ragazzi dovete vedere che bug lol dovete vedere che bug cioè probabilmente mi hanno sparito tutti gli omini compreso io e niente mi hanno ucciso mi hanno fottuto ah però mica ma questa partita non finisce più cos'è sta storia? uuuhu ma perchè non mi tira le bombe? come si fa a tirare le bombe? ah ecco mi si fa a tirare le bombe ah no con quel cortellino non sai perchè ti puzza il culo a te ti puzza il culo a te non ti dai si di là vieni o ti fai pite lancio una granita boom vi dico soltanto raga che sono andato da là per dare una mano a mi madre a far da mangiare? no che non riesce a giocare con i giochi di facebook lol come minimo cityville da pareggene gioco a castleville, id and chronicles a tutti i geni del mondo quindi ragazzi aggiungete la mamma di non bevo io di come si chiama che dai no non ve lo dico eh se cioè in un'album bandiera catturata e mi hanno inculato madonna e ho presa anche il nastro bandiera catturata ciucciatemi il pene ciucciatemi il pene catturata 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 vado bloccavole catturata 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 ah ragazzi comunque per i 400 iscritti del mio canale volevo fare una cosa e ne volevo parlare anche con voi dica di te però non so se parlarne in privato o se parlarne mentre si fa un video di lui al codici praticamente contest random g network si un posto solo in questo ah avete inteso? no si te lo spiego io sta tramite tss va ok vamo e poi dimmi se va bene come cosa se no oh scazzo tutto e lascio stare minchia ma quanta roba c'è qua GRANATA lancia la granata che scatto dimmi che ne pensi mo potrebbe se potrebbe se potrebbe fa però si deve valutare si deve valutare tutti insieme eh diventa diventa un po' strano siamo in troppi dici dopo no più che in troppi poi che vede chi c'entra eh questa è la mia someria che stanno a chiamare cioè so mi dici che sono morto però arrivo a tutti mi dico che sono morto però ecco perfetto sono morto ah ma qui non finisce più non finisce più questa partita non c'è verso non finisce più beh taglia vabbè chiudo qui ragazzi chiudo qui o no chiudo qui o no ma si chiudo qui quanto eh 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 a quanto hai boh non so sarò boh a eh non lo sai dice quindici minuti però sono su due quindici a 2326 punti e sto dando la direzione sbagliata Mattei pensi che sia tutto per questo video eh penso allora ragazzi penso che sia tutto per questo video cerco di fare un'ultima uccisione che ce l'ho qui accanto tipo falla 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 spero di falla e di non morire e di non morire e di non morire che poi ci vuole andare dalla donna se una minchia petta saltella aia aia dov'è dov'è sto finocchio non ti lavi non ti fai bidè non lo trovo vabbè ragazzi dal vostro mister magro o da oh gosh e da LOL si sta salutando lake si sta salutando i nostri amici di random g network lo so ma dico visto che ho gas disse che io saluto troppo normale adesso vi faccio un bel salutone ciao LOL vabbè ragazzi ciao ciao dai random g network è tutto passo e chiudo bye bye altas